La flat tax è una proposta sbagliata perché significa una stangata al ceto medio e un incentivo all'evasione. Guardate, è un incentivo all'evasione. Parto con un punto semplice che chi la propone di solito ne dice. Sei contribuenti su sette pagano oggi meno di 23%. Questa è l'aliquota di Forza Italia. Sei su sette. Due su tre paga meno di 15%. È chiaro che per questi i benefici saranno minimi o nulli. Facciamo un esempio così capiamo tutti di cosa stiamo parlando. Un lavoratore dipendente che guadagna 1000 euro al mese, 12.000 euro l'anno, oggi già non paga le tasse con gli 80 euro. Un ricco banchiere che guadagna 12.000 euro al giorno, ce n'è qualcuno, si metterà in tasca un milione di euro in più. Un milione di euro. Chi è che paga per questo milione di euro? Bene, il programma che hanno firmato Berlusconi e Salvini, c'è scritto lì, dice, li prendiamo dalle agevolazioni fiscali e dei trasferimenti alle imprese. C'è qua la lista. Traduzione in italiano, il biglietto dell'autobus passa da 1,50 euro a 5 euro. Si rimette l'imbus sulla prima casa, spiace per Berlusconi. Gli assegni familiari dati alle famiglie povere, alle famiglie in difficoltà, che oggi giustamente non sono tassate, verranno tassate. Le borse di studio, diritto allo studio, che oggi non sono tassate, verranno tassate. Una stangata vera al cetto medio. Questo è un vero e proprio robinù dall'incontrario. Si prende dai poveri per dare ai ricchi. C'è chi dice, no, 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 si recupera dall'evasione. Gli evasori non pagheranno più. Davvero? Manco per sogno. Chi capisce, sa come funziona il meccanismo dell'evasione, sa che l'evasione parte dall'IVA. prima evado l'IVA e poi evado il reddito. Siccome l'IVA non viene toccata, non si capisce perché chi oggi evade l'IVA dovrebbe non evaderla domani. Ma è peggio. Loro propongono le cose che si chiamano pace sociale. Tu devi 10 al fisco, me ne dai uno e siamo amici come prima. Questo non è un condono, è un super condono. Non ha niente a che fare con la rotamazione del cartello che abbiamo fatto noi. Quindi cosa succederà? Si recupererà qualche euro, forse, il primo anno, ma dall'anno dopo chi è che pagherà le tasse? Se so che tra qualche anno arriverà un condono per cui dovevo 10, ma pago uno, va bene lo stesso, non pago più le tasse. Io sono stato ieri in televisione con Matteo Salvini. È stato interessante perché, devo dire, dopo 10 anni che hanno governato, hanno depenalizzato il falso in bilancio, hanno fatto di tutto per strizzare gli occhi agli evasori. Sentire la destra a parlare di manette agli evasori è come vedere Matteo Salvini con la felpa dice Guevara. È la credibilità uguale.